Allora, grazie al collega Maccagno per questo chiarissimo quadro introduttivo. Adesso, prima di passare la parola al dottor Petrucco Toffolo, volevo dirvi che siamo in diretta streaming anche quest'anno. E l'indirizzo, quindi, lo trovate, è stato inserito adesso sul sito Il Caso e questo ci consentirà a chi deve assentarsi, magari non riuscirà a seguire i lavori fino a domani, appunto di vederli in collegamento da casa, dallo studio. E poi, successivamente, di ritrovare comunque i nostri lavori sul caso, separati relazione per relazione e altrettanto su YouTube. Dunque, adesso entriamo nel vivo, appunto, delle questioni a cui abbiamo accennato. Parleremo del mutuo fondiario, quindi delle esecuzioni proseguite dal mutuo fondiario in pendenza di fallimento. Di questo ci parlerà il collega Petrucco Toffolo, del Tribunale di Pordenone, già stato ospite a Mantua, e anche egli ha una competenza specifica, sia per quanto è giudice delegato alle procedure concorsuali e anche giudice dell'esecuzione nel suo tribunale. A lui la parola, mi raccomando per tutti i relatori, cercate di contenervi nei tempi che sono stati previsti, proprio perché abbiamo avuto qualche minuto di ritardo iniziale. Grazie. Bene, io intanto ringrazio la collega De Simone e tutti gli organizzatori per il gradito invito a partecipare al convegno in questo splendido scenario. Mi è stato assegnato un tema, diciamo, specifico, che come vedremo però porta ad esaminare diverse questioni. E per esaminare queste questioni faccio due brevi, credo, premesse. Innanzitutto la nozione di credito fondiario. Si tratta di un istituto che trova la prima disciplina addirittura nel 1905, legge 646, che peraltro è rimasta in vigore, pur con una serie di novelle nel tempo, fino al testo unico bancario e quindi fino al primo gennaio 1994. Tra l'altro con una disciplina transitoria che ne ha consentito l'ulteriore vigore per i contratti conclusi prima e le esecuzioni iniziate prima di quella data. Dicevo, una serie di evoluzioni che ha poi portato alla disciplina attuale che è contenuta negli articoli da 38 a 42 del testo unico bancario, decreto legislativo 385 del 1993. La evoluzione è andata nel senso di un progressivo ampliamento soggettivo e oggettivo della nozione. Perché nel 1905 abbiamo un istituto di credito fondiario che opera solo questo tipo di operazioni con le cartelle di credito fondiario e poi via via c'è stato questo ampliamento. Oggi la nozione che è consegnata dall'articolo 38 include sostanzialmente tutti i finanziamenti concessi da banche, quindi è chiaro già l'aspetto soggettivo, a medio e lungo termine, però il medio è inteso sopra i 18 mesi, quindi anche relativamente breve, finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado sui mobili. Ecco, l'ipoteca è l'elemento distintivo, peraltro il secondo coma dell'articolo 38 apre alla possibilità che questa ipoteca in determinati casi non sia necessariamente di primo grado. Quali sono le prerogative principali associate al credito fondiario? Si tratta di alcune norme che contemplano dei privilegi, diciamo, rispetto alle operazioni di credito ordinario. Per elencare quelle che poi non hanno più di tanto riferimento alle questioni più specifiche che dobbiamo esaminare, ricordiamo l'esclusione dell'obbligo di notificare il titolo esecutivo. Quando il mutuo fondiario è redatto nella forma dell'atto pubblico notarile o della scrittura privata autenticata, si può notificare direttamente precetto e poi pignoramento. Il creditore fondiario durante l'esecuzione ha il diritto di incassare le rendite che vengono dall'immobile esecutato e che gli devono essere rimesse dal custode o dall'amministratore giudiziario o dal curatore fallimentare al netto delle spese di amministrazione dei tributi. E poi il privilegio che dal punto di vista finanziario è molto importante è la possibilità di vedersi versato direttamente il prezzo da parte dell'aggiudicatario senza quindi attendere i tempi della distribuzione in sede esecutiva o vedremo poi in sede concorsuale. E da ultimo il consolidamento dell'ipoteca pressoché immediato. Vantaggio anche questo importante naturalmente perché in dieci giorni dall'iscrizione ipotecaria l'ipoteca diventa non più revocabile. Il privilegio però che ci interessa di più oggi è quello che si indica come eccezione alla regola posta dall'articolo 51 della legge fallimentare. E la seconda premessa che devo trattare inevitabilmente solo per cenni è la regola che il legislatore ha prescelto per disciplinare un problema che poteva crearsi, che può crearsi quando all'esecuzione si aggiunge il fallimento dell'esecutato. Perché l'esecuzione individuale e l'esecuzione concorsuale hanno in comune il fatto di tendere alla liquidazione di quel bene. C'è quindi il rischio di una interferenza e per regola generale la soluzione che il legislatore ha prescelto è quella della prevalenza del fallimento. La prevalenza del fallimento si esprime nell'articolo 51 dicendo che con il fallimento non possono più essere iniziate o proseguite azioni esecutive. Come si attua? Quindi la conseguenza è la perdita di legittimazione in capo ai creditori a procedere esecutivamente. Come si attua questa prevalenza? Lo si comprende meglio dall'articolo 107, sesto comma, perché in realtà correttamente il legislatore non ha individuato come poteva essere semplicisticamente il rimedio dell'arresto della procedura esecutiva per dare spazio alla sola procedura fallimentare. Ma ha concepito un'alternativa che è affidata alla scelta del curatore. È il curatore che può scegliere in favore dell'arresto con un'istanza di improcedibilità perché sceglie di liquidare il bene da sé in sede concorsuale o invece beneficiando dell'attività che nella procedura esecutiva è stata già svolta può subentrare nella posizione dei creditori muniti di titolo esecutivo, procedenti intervenuti nella procedura esecutiva e quindi dare ulteriore impulso alla vendita nell'esecuzione individuale. Quindi questa regola evidentemente serve sia per garantire l'effettività del concorso dei creditori sia per garantire la razionalità e l'unitarietà della liquidazione concorsuale. L'articolo 51 ha un incipit che esprime l'eccezione rispetto a questa regola. Dice salvo diversa disposizione della legge e la eccezione più importante come più o meno noto è proprio quella del mutuo fondiario ed è espressa a propria volta come eccezione nell'articolo 41 del testo unico bancario che al secondo comma dice che l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento. Quindi è chiarissima l'eccezione in termini proprio speculari alla regola. Se c'è il creditore fondiario può proseguire, gli altri creditori invece perdono la legittimazione. Allora il tema dell'interferenza tra procedure esecutive individuale e concorsuale che nella regola il legislatore risolve con la prevalenza del fallimento qui si pone di nuovo perché non è risolto in quei termini in quanto ci troviamo di fronte a due poteri liquidatori concorrenti. Quello del creditore fondiario che può proseguire l'azione esecutiva e quello del curatore fallimentare perché la disciplina non è nel senso di privilegiare esclusivamente il fondiario che il curatore mantiene a propria volta il potere liquidatorio. Questo nuovo rischio di interferenza deve trovare a propria volta una soluzione e la soluzione che non è indicata di per sé espressamente nella disciplina l'ha fornita alla giurisprudenza come noto con il criterio della prevenzione o priorità temporale. Cioè sostanzialmente chi dei due soggetti muniti di questo potere arriva per primo alla vendita ma adesso vedremo cosa si intende impedisce all'altro di svolgere l'attività liquidatoria. La giurisprudenza tradizionale per esempio l'ultima Cassazione 18.436 del 2011 aveva indicato i momenti a cui fare riferimento nell'ordinanza di autorizzazione alla vendita che nella disciplina fallimentare prima della riforma era speculare nel senso dell'ordinanza di autorizzazione alla vendita del giudice dell'esecuzione ex articolo 569 l'ordinanza di autorizzazione alla vendita o che dispone la vendita del giudice delegato perché era il giudice delegato a vendere nelle forme del codice di procedura civile. Nessuno mi pare abbia ancora focalizzato questo problema su quale sia il momento al quale oggi fare riferimento dopo che il giudice delegato quell'ordinanza non la fa più. Personalmente ritengo che il momento al quale fare riferimento nella nuova concatenazione di eventi che si ha nella liquidazione fallimentare sia quella dell'autorizzazione agli atti esecutivi del programma di liquidazione da parte del giudice delegato. Quindi nello snodo programma di liquidazione predisposto dal curatore, approvazione da parte del comitato dei creditori, abbiamo l'autorizzazione agli atti esecutivi da parte del giudice delegato che pur avendo una forza, una centralità inferiore a quella che era l'autorizzazione alla vendita di una volta è l'atto che fa sì che da quel momento la vendita entri nella fase esecutiva. Quindi si tratta dell'atto più simile per natura ed effetti rispetto alla ordinanza di autorizzazione alla vendita ex articolo 569. Questo significa che il curatore stesso deve porsi il problema, quando sa che c'è stato un pignoramento, cosa che rileverà dalle visure immobiliari, di verificare a quale punto è arrivata l'esecuzione, perché se l'esecuzione è oltre il provvedimento di quell'articolo 569 non deve compiere attività liquidatoria. e a propria volta il creditore fondiario naturalmente farebbe bene a non avviare o proseguire azioni esecutive se riscontra che già il curatore l'ha anticipato avviando alla vendita, avendo già ottenuto l'autorizzazione agli atti esecutivi in relazione al bene sul quale è iscritta l'ipoteca. Se quindi il curatore è arrivato prima e riscontra che il creditore fondiario ciò nonostante procede, abbiamo una prima situazione nella quale può avere qualcosa da contestare, può reagire a questo. Poi vedremo in relazione ad altre situazioni di questo genere che riscontreremo nel procedimento come può reagire. Se invece deve prendere atto che l'esecuzione è già pervenuta a quella fase, ha la possibilità di intervenire nell'esecuzione. È discusso se debba farlo con l'assistenza di un avvocato o meno. Da un punto di vista formale è difficile sostenere parlandosi di intervento in senso proprio che possa farlo senza un avvocato. La prassi, diciamo anche per una comprensibile esigenza di contenimento delle spese della procedura concorsoale, vede il curatore intervenire anche senza, soprattutto quando, ed è il caso diciamo più comune, interviene semplicemente con una funzione di sorveglianza della regolarità della procedura esecutiva e allo scopo di verificare l'adeguatezza del prezzo base e di farsi assegnare l'eventuale residuo rispetto alla somma che, come vedremo, sarà assegnata al creditore fondiario. Sicuramente l'intervento assume carattere più formale se invece interviene per far valere la posizione di creditori pozziori rispetto al creditore fondiario, situazione rara ma che può verificarsi, in questo caso prospettandosi la posizione proprio nell'interesse e in luogo in qualche modo di uno specifico creditore o di più creditori. Quando dunque l'esecuzione prosegue uno dei problemi che la prassi ha posto è quello della custodia, perché vi sono alcuni autori che ritengono che il curatore sia custode ex legge e che quindi la funzione custodiale sia assorbita nella sua attività, con la conseguenza che il giudice dell'esecuzione non dovrebbe nominare il custode o che se il custode è già stato nominato decade al momento del fallimento dell'esecutato. Però la disciplina riformata del processo esecutivo assegna al custode delle specifiche funzioni che sono in funzione dello svolgimento del procedimento di espropriazione forzata e non necessariamente incluse nella tipica attività del curatore. E quindi io ritengo che di per sé il custode possa assumere una sua autonomia e che il giudice dell'esecuzione possa o debba comunque nominare un custode, valuterà se non sia opportuno, come spesso accadrà, nominare il custode nella stessa persona del curatore fallimentare. Altra questione che si è posta è quella della sospensione volontaria dell'esecuzione ex articolo 624 bis e c'è anche nel sito del caso un provvedimento del Tribunale di Reggio Emilia che secondo me correttamente dice che se il curatore è intervenuto non può essere sospesa l'esecuzione su istanza del creditore fondiario senza il consenso del curatore. Sia perché il curatore rappresenta la massa dei creditori, sia perché comunque il giudice dell'esecuzione avendo un potere discrezionale tendenzialmente si guarderà bene dal sospendere solo perché il creditore fondiario lo vuole quando magari motivatamente il curatore esprime delle esigenze di prosecuzione. La questione principale che poi si è posta in relazione al credito fondiario è quella della necessità o meno della sua insinuazione al passivo fallimentare. Questo problema si pone in relazione a quel privilegio che abbiamo indicato nel versamento diretto da parte dell'aggiudicatario del prezzo fino all'ammontare del credito complessivo del creditore fondiario. Cioè nel caso di creditore fondiario il giudice dell'esecuzione disporrà che effettuata la precisazione del credito l'aggiudicatario versi nei termini previsti il prezzo direttamente in favore del creditore fondiario. Questo fino all'ammontare complessivo del suo credito da intendersi secondo di più di rango ipotecario e quindi di capitali, interessi e spese pacifico che l'eccedenza ovviamente vada poi lasciata assegnata al curatore fallimentare. Questa riscossione che il creditore fondiario fa in questo modo vale anche nel caso in cui vi sia il fallimento e la prosecuzione dell'esecuzione. Quindi il curatore non incassa questo ricavato e alcuni hanno in passato sostenuto che questa situazione sia definitiva. Ma è prevalsa dopo oscillazioni la tesi secondo la quale si tratta di un privilegio che la stessa Cassazione, in particolare poi con le sezioni unite 23.572 del 2004, ha definito un privilegio soltanto processuale, un privilegio di riscossione. Questa soluzione è poi stata recepita dal legislatore perché oggi gli articoli 52 e 110 si esprimono univocamente nel senso della necessità della insinuazione del creditore fondiario al passivo fallimentare. Questo significa che la riscossione che il creditore fondiario fa tramite il versamento diretto del prezzo assume un valore provvisorio e può diventare definitivo solo se nella misura in cui sia poi confermata in sede concorsuale che è la sede nella quale si fanno davvero i conti sia nel senso che deve esserci l'insinuazione sia nel senso del riconoscimento del quantum. Perché se il creditore fondiario non si sarà insinuato dovrà restituire tutto quanto ha ricevuto, se sarà stato ammesso per una somma ipotecaria inferiore a quella percepita provvisoriamente dovrà restituire l'eccedenza. Questo significa in pratica che il curatore fallimentare forma un riparto che ha una parte diciamo virtuale, cioè include nella massa attiva come ricavato dalla liquidazione concorsuale il ricavato dalla vendita avvenuta in sede esecutiva e include nella massa passiva il credito come accertato dal giudice delegato e forma in tal modo un riparto che può indicare la necessità di recuperare una somma da parte del fallimento a carico del creditore fondiario che abbia ricevuto più di quanto gli spetta. Questa pretesa, se non trova uno spontaneo riconoscimento da parte del creditore fondiario, può essere trasferita davanti al giudice ordinario e in certi casi probabilmente anche con un procedimento monitorio. Quindi abbiamo la possibilità di individuare altre situazioni in cui questo svolgimento diciamo abbastanza favorevole al creditore fondiario consente una contestazione da parte del curatore fallimentare. E una questione è quella di comprendere se prima del versamento diretto del prezzo si debba richiedere che sia già avvenuta l'insinuazione. Situazione che, questione alla quale io darei in linea di massimo una risposta negativa con alcune precisazioni. Perché? Perché l'assegnazione è provvisoria e deve essere confermata, diventare definitiva in sede concorsuale, ma l'insinuazione potrebbe ancora intervenire successivamente. Ma la prima situazione diversa è quella nella quale non potrebbe più intervenire successivamente perché è scaduto il termine per le insinuazioni tardive e un'insinuazione super tardiva non sarebbe giustificata. La seconda situazione che può destare la reazione del curatore è quella di cui si è occupata una recentissima sentenza della Corte di Cassazione, 6738 del 2014, in cui nel frattempo il credito del creditore sedicente fondiario era stato accertato come chirografario in via definitiva. Questa sentenza, che dà ragione al curatore che si era opposto al progetto di distribuzione in favore del creditore fondiario, dice che il giudice dell'esecuzione non può entrare nella graduazione dei crediti e cioè in sostanza che se quel creditore è già stato riconosciuto in sede concorsuale come un creditore chirografario, non gli può essere attribuita una qualifica diversa in sede esecutiva da parte del giudice dell'esecuzione. Soluzione che mi sembra corretta nel senso che il giudice dell'esecuzione non può che prendere atto che quello che si presentava come creditore fondiario non ha definitivamente quella qualifica nella sede in cui poi quella qualifica deve essere spesa, cioè quella di creditore fondiario. Abbiamo quindi visto alcune situazioni nelle quali il diritto del creditore fondiario a procedere può trovare elementi di contestazione da parte del curatore. E ne aggiungo una ultima che è relativa alla nota e complessa questione della violazione del limite di finanziabilità. Questione sulla quale, come sapete, è intervenuta la Cassazione con una nota e da alcuni, da molti forse, criticata sentenza, 26.672 del 2013. La questione è una questione molto complessa, quella della violazione del limite di finanziabilità e non sono in grado di affrontarla nel merito in questo momento. Ricordo solo brevemente che una ulteriore caratteristica tipica del credito fondiario è il fatto che l'articolo 38 stesso pone la necessità di una certa proporzione tra il finanziamento e la garanzia che lo sostiene. Cioè per regola generale, poi ci sono alcune regole che possono promuovere situazioni diverse da questa, ma la regola generale è l'80%. Cioè se l'immobile sul quale sarà iscritta l'ipoteca garanzia del finanziamento ha il valore di un milione di euro, può essere concesso un finanziamento fino a 800.000 euro. Succede soprattutto che il curatore fallimentare si accorga che in realtà il valore dell'immobile era inferiore e che quindi questo limite di finanziabilità è stato superato. Su questa situazione la Cassazione nel 2013 si è espressa nel senso di escludere la nullità del contratto di mutuo fondiario caratterizzato da questo elemento, nullità che era stata invece indicata da una più risalente decisione della Corte di Cassazione e che è indicata da molti autori in dottrina. La questione è brevemente quella della qualificazione di questa norma che prevede il limite da quasi tutti considerata norma imperativa, ma per alcuni da cui l'ipotesi della nullità norma imperativa attinente alla validità del contratto e da altri norma imperativa attinente alla condotta dei contraenti. La Cassazione aderisce a questa seconda soluzione dicendo che le conseguenze della violazione possono essere disciplinari, amministrative, proprie dell'ordinamento bancario, eventualmente di responsabilità, ma non attinenti alla nullità del contratto. Solo brevemente sottolineo che la stessa tesi della nullità del contratto in realtà trova declinazioni multiple, perché c'è chi parla di nullità dell'intero contratto con la conseguenza per cui il creditore fondiario sarebbe un creditore chirografario da indebito, c'è chi opta per la conversione dell'intero contratto in un contratto di mutuo bancario ipotecario ordinario, c'è chi distingue nel caso della violazione del limite la parte che sta entro il limite e l'eccedenza, a seconda dei casi riconoscendo la fondiarietà della parte entro il limite e la natura ipotecaria ordinaria convertita oltre il limite, oppure l'ipotecario ordinario nel limite, il chirografario, ci sono tutta la serie possibili di declinazioni della tesi della nullità. Una tesi che va nel senso stesso, grosso modo, della Corte di Cassazione è quella della norma delimitativa della fattispecie, cioè si dice che non c'è nullità, però in realtà un mutuo fondiario che non rispetta quel limite non è un mutuo fondiario, è un presupposto di applicabilità della disciplina. Allora, in queste varie ipotesi, sia che si tratti di nullità, sia che si tratti di esclusione dell'applicabilità della disciplina, abbiamo l'ultimo caso che appunto volevo evidenziare, nel quale il curatore ha da ridire sul fatto che ci si trovi di fronte a un credito fondiario con le prerogative che ho indicato e in particolare che il creditore sedicente fondiario che vorrebbe proseguire nell'esecuzione possa farlo. Quindi l'ultimo quesito al quale dedico un minuto è che cosa debba fare il curatore in questi casi. Allora ci sono due strumenti di reazione, secondo me, che possono essere utilizzati, diciamo, anche in consecuzione a seconda della risposta che il primo ottiene. La prima cosa da osservare è che se il contenuto della contestazione sostanzialmente è non ti riconosco la qualifica di creditore fondiario, voglio dire che vale la regola dell'articolo 51 e non l'eccezione. E allora se vale la regola dell'articolo 51 posso esercitare quella facoltà di scelta che mi è attribuita come curatore dall'articolo 107 Sesto Comba. E come faccio ad arrestare questa esecuzione che va avanti mentre io non lo voglio? Senza che ci sia più il legittimato concorrente, semplicemente con l'istanza di improcedibilità. L'istanza di improcedibilità per la quale più o meno pacificamente non serve l'assistenza di avvocato e che quindi è, diciamo, il primo attacco che suggerisco il curatore perché dovrebbe in linea di massimo ottenere il risultato voluto. Certo c'è la possibilità soprattutto se la questione è controversa e facciamo il caso del limite di finanziabilità dove c'è il problema di riscontrare in concreto la violazione e delle conseguenze giuridiche discusse che la violazione esprime, il giudice dell'esecuzione potrebbe rigettare l'istanza di improcedibilità. In questo caso, vista da un altro lato, che cosa contesta il curatore? La legittimazione a procedere esecutivamente in capo al creditore fondiario o sedicente fondiario. E detto questo si comprende che lo strumento normale di reazione e di contestazione è l'opposizione all'esecuzione. Quindi se non va bene l'istanza di improcedibilità si fa opposizione all'esecuzione e questa si fa con un ricorso con assistenza di avvocato. Per sicurezza, nell'ipotesi in cui si procede in questo modo, il consiglio più raffinato potrebbe essere quello di presentare questa opposizione nei 20 giorni dal rigetto della prima istanza per evitare che poi si creino strani cortocircuiti per i quali si possa dire che essendo state rigettate l'istanza e non opposto il provvedimento si sia formato una preclusione. Non dovrebbe essere così perché l'opposizione all'esecuzione ha un suo contenuto e non ha la decadenza dei 20 giorni, però se facciamo l'istanza di improcedibilità e ci viene rigettata possiamo fare un'opposizione all'esecuzione ma a valere anche agli atti esecutivi contro il rigetto nei 20 giorni dal rigetto stesso. Con questo mi fermo. Applausi Grazie. 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 Grazie.